Salve a tutti, oggi proveremo Willcraft. Una delle cose che la gente non sa è che attraverso la console possiamo disattivare i filtri e quindi rendere il gioco più veloce, anche se Willcraft è già di su un gioco molto pesante. Oggi usiamo i trucchi che poi sono contenuti nella cartella documenti, quindi potrete usare tutti i trucchi che volete. Andiamo subito. Dall'ultima release sono disponibile. Che lasciano questi UR nuovi. Magnifici riflessi, vediamo. Benissimo. Un'altra importante aggiunta nell'ultima release è il castello. Il nostro amico Bushido cliccando ci seguirà e ci aiuterà a sconfiggere il salve. Un'altra importante aggiunta nell'ultima.